bene amici spero ora di farvi fare due risate con la mia ultima creazione ho disegnato qui un cowboy come potete notare in un atteggiamento inequivocabile successivamente ho asportato la porzione del suo lato b fatto ciò non dovremo far altro che piegare il nostro dito indice e posizionarlo nella finestrella ottenendo questo effetto carino